Andrea Barbotti da Stronghold286 Mostar Games quad qualifier numero 2 20 kg barbel 20 kg 20 kg 20 kg 10 kg 2.5 kg 10 kg 20 kg 60 kg 9 kg 120 kg 20 kg 21 kg 21 kg 23 kg 24 kg Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti. 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 a tutti.